Una trentina di squadre, oltre 150 atleti per il Memorial Mickey Barcella, il 3x3 di street basket organizzato dall'associazione di promozione sociale Michelangelo Barcella, di cui fanno parte gli amici del 17enne scomparso otto anni fa. Sabato pomeriggio, a far da cornice una splendida giornata di sole, si è tenuta in piazza Marconi a Cremona la fase a Gironi. Stasera ci sarà una parentesi calcistica, sotto i portici della piazza cittadina ci sarà infatti la possibilità di vedere la finale di Champions League. Dalle 21 però i campi sono aperti alla sfida della gara da tre punti. Domenica mattina si riparte a calcare il cemento di piazza Marconi alle 9, protagonisti un centinaio di bambini nel torneo Kids e nel pomeriggio alle 15.30 le fasi finali del 3x3. Dalle 20.30 le premiazioni e quindi DJ set per finire in bellezza e in musica la serata. Il Memorial Barcella avrà un appendice anche sabato prossimo alla Canottieri Visolati, dedicata a chi non ha potuto essere presenti in questa due giorni.